I lavoratori del Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa hanno indirizzato una lunga lettera ai vertici del Governo regionale e nazionale e persino al Presidente della Repubblica, Mattarella, scrivendo esasperati della loro condizione di precariato immobile. C'è chi attende sette mensilità, ma anche chi ne deve percepire ancora undici, chi vive quindi in condizioni economiche e non di certo tra le più comode. A stento, riusciamo a passare un giorno dopo l'altro, indebitati fino al collo, rincorrendo promesse a lungo termine di sindacati e politici. Siamo stanchi di queste condizioni, peraltro non causate da noi, ma da una scabrosa gestione dell'ente. Le nostre famiglie, scrivono i lavoratori, ci stanno sostenendo, ma anche loro stanno perdendo le forze. Molti di noi la mattina si svegliano con l'angoscia di dovere passare un'altra giornata senza nessuna minima speranza di poter ritornare a vivere e lavorare serenamente. Tanti non riescono più a sostenersi, dovendo negare ai figli i costi dell'istruzione. Nella lunga lettera, i lavoratori del Consorzio numero 8 del capoluogo Ibleo chiedono quindi un tempestivo intervento sulla regolare retribuzione delle spettanti somme dovute. Fabio Bizzini, alla guida del Consorzio da soli quattro mesi, ha dichiarato di avere trovato una situazione difficile sotto il punto di vista dei pagamenti dei dipendenti a tempo indeterminato, pagamenti che restano fermi a marzo dello scorso anno e il neodirettore sta intervenendo in prima persona affinché ci siano delle prese di posizione da parte della regione e potere così pagare gli stipendi arretrati. Bizzini divide in due categorie i lavoratori, quelli regolari a tempo indeterminato da pagare con i soldi della regione e quelli vincitori di sentenza che devono essere pagati con i soldi degli agricoltori e delle entrate dell'ente, che però sono ferme al 2014. Il neodirettore garantisce però che entro marzo saranno erogate altre due mensilità per i lavoratori assunti regolarmente a tempo indeterminato. Per quelli invece a tempo indeterminato vincitori di sentenza, purtroppo la regione non riconosce alcun contributo e devono quindi essere totalmente a carico del bilancio dell'ente. Rimane quindi ad oggi una situazione precaria dalla quale i lavoratori del Consorzio sperano di poterne presto uscire, per poter innanzitutto vivere dignitosamente e ricevere i corrispettivi dovuti e necessari, per diritto ma anche per dovere.